Migliori azioni di energia rinnovabile da comprare Benvenuti nel canale YouTube di EconomiaItalia.com. Oggi parleremo delle migliori azioni da comprare di aziende di energia rinnovabile per il 2024. Prima però metti un like e sottoscriviti a questo canale, così potrai aiutarci a produrre nuovi contenuti interessanti e gratuiti. In questo ultimo periodo si sente molto parlare di ecologia, ma come stiamo messi a livello finanziario? Conviene comprare azioni di energia rinnovabile per investire in questo settore in crescita? È un'impresa sicuramente difficile, ma è possibile. Il mondo ha bisogno di energie rinnovabili per soppiantare quelle a base di carbone e petrolio e per una. Questione non solo ambientale, ma geopolitica. Si pensi che la Saudi Aramco, proprietà della corona saudita, ha utili annuali superiori a 100 miliardi di dollari, cioè la somma degli utili di Apple, Google ed Exo messi insieme. Quindi non si tratta solo di un problema finanziario, economico e di vivibilità ambientale per i nostri discendenti, ma anche di cercare di distribuire a tutti questo enorme potere politico che poche nazioni produttrici di petrolio e gas hanno nei confronti di tutte le altre. È per questo che nei prossimi anni un ruolo cruciale nei più grandi mercati azionari verrà giocato dalle nuove energie alternative, pronte a quotarsi in borsa, per un valore che già oggi sono di miliardi di euro ma che hanno potenziali di crescita così grandi che sono, difficilmente valutabili ad oggi. Molte compagnie di energia stanno già concentrando i loro sforzi su fonti alternative, per sensibilizzare i consumatori e portare il mondo verso un futuro più pulito. Non sono un messaggio ambientalista, ma un occhio attento ai bisogni e alle esigenze che negli ultimi anni sempre più si fanno sentire. Se si sceglie di investire in fonti rinnovabili e pulite inoltre perché si considera questo un settore in forte crescita, un fondo comune di investimento nel settore green permette di acquistare un portafoglio azionario diversificato, quindi con rischi ridotti. Differenziazione che sarà necessaria in ogni caso, perché chi opera nel settore dell'energia rinnovabile può essere una piccola impresa, una start-up o una grande società nazionale di distribuzione. Dopo aver fatto registrare un record negativo nel 2016, nel 2018 il multisettore dell'energia rinnovabile alternativa è tornato a crescere, sviluppandosi in modo sempre più diramato. La concentrazione è aumentata nel campo del fotovoltaico, mentre aprono nuovi impianti e compaiono operatori in materia di storage, di trasformazione digitale e di Internet of Things, sistemi di domotica o assistenti per l'ambiente domestico. Secondo un report dell'International Energy Agency, infatti, entro il 2023 le fonti rinnovabili saranno sempre più protagoniste del mercato mondiale. Questo specialmente nel settore elettrico, che arriverà a coprire quasi il 30% del fabbisogno, mentre la restante percentuale sarà coperta da energie derivanti da sole, acqua, vento e biocarburanti. Titoli azionari di aziende di energia rinnovabile su cui investire o da tenere sott'occhio. 1. Clearway Energy, QEM.A Clearway Energy è uno dei maggiori proprietari di energia rinnovabile negli Stati Uniti. Completa il suo portafoglio di energia eolica e solare con impianti di alimentazione a gas naturale, altamente efficienti e risorse energetiche distrettuali. Clearway vende anche il suo potere tramite PPA che generano un flusso di cassa costante per l'azienda. Clearway ha svolto un solido lavoro di creazione di valore per gli azionisti nel corso degli anni, offrendo rendimenti totali annuali che si avvicinano al 10% sin dal suo inizio. Da notare che i suoi rendimenti annuali totali sono più che raddoppiati da quando il colosso del private equity, Global Infrastructure Partners, ha preso il controllo della società nel 2018. Tale relazione le fornisce un flusso costante di opportunità di investimento. Ad alimentare questi ritorni accelerati è stata la capacità di Clearway di espandere il proprio portafoglio. Il flusso di cassa e il dividendo. La società si aspetta che tutti e tre continuino a crescere. Mira una crescita del dividendo annuale dal 5% all'8% nei prossimi anni, pur mantenendo un solido profilo finanziario. 2. Gruppo SMRE Il gruppo Umbro SMRE è produttore di macchinari industriali e impegnato nella mobilità sostenibile. In entrambi i settori il suo lavoro è contraddistinto da più di mille prodotti di natura elettrica. A zero emissioni. Con Tawaki, SMRE sviluppa sistemi a batteria in modalità ibrida ed elettrica per le macchine che richiedono potenza autonoma. Il gruppo americano SolaEdge, che opera nelle tecnologie per le fonti rinnovabili, è in procinto di acquisire la maggioranza del capitale della società. 3. Friendly Energy Società italiana coordinata da Edison è attiva nella produzione di energia elettrica alternativa, attraverso impianti mini-idroelettrici. Tecnologie all'avanguardia sono la punta di diamante, utilizzate nella costruzione di centrali idroelettriche moderne e nella produzione di energia in modo alternativo e flessibile. Obiettivo principale è insediarsi nel mercato del mini-idroelettrico, settore estremamente di nicchia, sviluppandone un nuovo business per l'Italia e non solo. 4. PG Pattern Energy Group Inc Società americana indipendente che punta a energie pulite di sole, vento e acqua. Con impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici in America, Canada e Giappone, l'obiettivo è infondere la consapevolezza che il mondo sta effettuando la transizione verso le fonti di energia rinnovabili. A questo si uniscono la protezione dell'ambiente e la creazione di valore. Per il cliente e per l'investitore. In un impegno a lungo termine. 5. ENI Ebbene sì. Abbiamo voluto mettere anche il fiore all'occhiello dell'industria petrolifera italiana in questa classifica. Un'eresia? Non proprio. Le azioni ENI, BIT, ENI, oltre ad avere un enorme potenziale per il 2022, visto che hanno perso il 50% del loro valore a causa della pandemia. Quindi perfetto esempio per fare value investing, almeno per i prossimi mesi. Fanno parte di un'azienda che sono anni che sta investendo decine di milioni di euro in energie rinnovabili e già, ora investe in ricerca e sviluppo per energia eolica, solare, geotermica, idroelettrica, oltre che rimanere nel petrolio. Per saperne di più sulle migliori azioni di energia rinnovabile da comprare nel 2024 vai sul nostro sito che è linkato in fondo al video.